Peggy 12 Signore, signori, prima di tutto dovete sapere che la storia di cui state per essere partecipi contiene un elevato numero di... è arrivata la pizza. Chi hai detto? Non mi hai sentito? Certo che sì. Buon per te. Non sono sola. Giusto, sono scema. Bullo. Pazza. Aiutami! Ok, perfetto. Per fare cosa? Ci sto. Mi piacciono i gattini. E a me gli uccellini. E i gatti croccano tra un piacere. Quando è che ci facciamo due salti sul ring? Per ora ci facciamo un goccetto. Ti vedo un po' asciutto. E adesso? Per me è una sventola e basta. Finalmente giornalismo investigativo. Andiamo, muoviti. Io sono un giornalista sportivo. Se ti colpisce una mazza da baseball, fammi un fischio. Via le luci! Ho ricevuto, registrato, analizzato, compreso. E' alberto. E' alberto causata si questo? Che cosa si ti colpisce? Io sono così? Grazie a tutti.